Libertà e libero arbitrio non sono la stessa cosa e spesso li si confonde, ma la libertà è molto più definitoria di quello che noi siamo come esseri intelligenti, la libertà in realtà definisce la nostra sfera intellettuale, il nostro modo di esistere come esseri intelligenti. Pensateci in questi termini, se io non sono d'accordo con voi su qualche cosa e voi sapete che sono una persona onesta, sincera intellettualmente, potete cercare di convincermi che ho torto, ma il presupposto di questo tentativo che voi potete fare con me è che la mia opinione non è necessitata da una serie di meccanismi che mi precedono, come una serie di eventi deterministici che hanno causato questa opinione, così come altri eventi hanno causato un sasso dal cadere da quella montagna a trovarsi esattamente in questo posto. Se così fosse, l'unica cosa che voi potreste fare è cercare di cambiare quel processo in modo che il risultato sia diverso, così come fate con un computer che magari non funziona come voi volete, allora lo riprogrammate in modo tale che funzioni in un altro modo, ma non cercate di convincere il computer ad agire diversamente, perché il computer in qualche modo è necessitato. Se il computer ti scrive una certa frase sullo schermo, non dovete convincerlo, dovete riprogrammarlo se volete che la frase sia diversa. Ma nel mio caso invece potete cercare di convincermi perché sapete, intuite, che la mia determinazione su una certa verità non è necessitata, è libera. Libertà, in questo senso, è la stessa conoscenza della verità, cioè è il mio modo di rapportarmi alla verità. È un modo libero. Il libero ha senso a come stanno le cose e definisce il mio stesso essere umano, come essere intelligente. Il libero arbitrio è diverso invece. Il libero arbitrio, come parte della volontà che ci consente di scegliere, di compiere una certa azione, nel qui e nell'ora, si definisce in funzione di quell'evento che è l'azione che io compio. Un evento che, a differenza degli eventi naturali, è collegato, collega una serie di passaggi, 1, 2, 3, 4, 5, immaginate una sequenza che costituisce un evento naturale, ma in questo caso gli elementi sono quelli pensati dalla mia ragione, cioè io penso una certa azione che funzionerà in questo modo, ma se io non faccio niente, quell'evento non si verifica, si verifica in funzione del mio piano. Quindi è come se io creassi con la mia ragione un evento e lo sovrapponessi all'ordine della natura. Quell'evento, se io non scelgo di farlo, non è lì, non è determinato, potrebbe essere in tanti altri modi, potrebbe essere sia pensato in tanti altri modi, sia potrebbe avvenire in tanti altri modi. Quindi rispetto all'evento che viene fuori dalla mia azione, che è indeterminato, a meno che non lo determina che cosa, la mia scelta, che è l'atto del libero arbitrio, quell'evento è indeterminato. In questo senso la mia facoltà di metterlo in atto è indifferente al tipo di evento, potrebbe essere un evento buono o cattivo, non definisco il libero arbitrio come soltanto rispetto all'assenso o alla verità, ma rispetto a un evento che potrebbe essere in un certo modo o in un altro. In questo senso il libero arbitrio è soltanto la facoltà di scegliere, indipendentemente da quello che lo si sceglie, perché si riferisce a un evento non necessitato, ma non tanto alla non necessità del mio senso o alla verità, ma alla non necessità di quell'evento in natura che potrebbe avvenire o non avvenire in un altro modo.